Oggi è mercoledì Oggi è una giornata un po' strana perché si fa musica la mattina e poi tutti con lo zainetto ai pian delle betulle Oggi è una giornata un po' strana perché si fa musica la mattina e poi si fa musica la mattina e poi si fa musica la mattina Il pian delle betulle è a circa 15 km da Casargo ed è un luogo abbastanza riconoscibile soprattutto per la sua chiesetta alpina Che sta subito sopra un piccolo stagno pieno di girini Il pian delle betulle è il posto dove andavo a villeggiare quando ero piccolo La cosa comoda del pian delle betulle è che mia mamma che è gentilissima grazie mamma ci lascia in appoggio la nostra casa E quindi con le chiavi di mia madre abbiamo caricato 120 ragazzi in pullman e siamo partiti per una piccola ma piacevole gita Siamo arrivati al pian delle betulle I ragazzi stanno facendo le attività più diverse Ad esempio E adesso lo metto Cosa stai facendo? Magic Fa vedere le tue carte Come sono? Scusa ma loro vedono eh Chi è che vince? Siamo dei super nerd che stanno giocando Fate schifo No dai Non esageriamo Intanto dall'altra parte di casa di mia madre Il resto del mondo usa il telefono Ciao L'amore per l'altro non è uguale all'amore di chi Qui a cosa giocate? Strip Strip Dopodiché Abbiamo il Maggiolini che si nasconde Ah sì scusa Poi qui abbiamo la bisca dei Bertoni Gli sto spiegando ma sono dei cani Siamo andati in cerca della merda insieme a Matteo Ma non devi dire le parolacce No la cacchina La cacchina di cosa? Dile delle mucche Palla Ecco Ho tirato un calcio a una palla E non ha funzionato Strano perché io sono bravissimo a giocare a calcio Ciao Carpa come stai? Oggi sei contento di non far prova? Sì molto Gente che ama la musica E ama farla Qualcuno non sa come mettersi la crema Però non stai male Arriva la parte più difficile Vero Vlad? La parte più difficile È rimettere tutto in ordine Tutto E non sto giocando ai videogiochi Sto studiando lo giuro La cosa difficile È sistemare tutto E chiudere casa Senza che mamma si accorga del nostro passaggio E questo è complicato Salute Esther e Ila Questo super è il piano delle betulle Qui sotto fai ombra così Vedi a sinistra mio fratello gemello Dov'è? Al centro mia mamma Mia sorella la seconda Sono quasi dei piccoli Stiamo rientrando dal pian delle betulle È stato un bellissimo pomeriggio E va bene Così va tutto bene Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Apparentemente oggi abbiamo fatto poca musica Ma questa mattina dalle 9 a mezzogiorno e mezzo Abbiamo fatto prova con tutta la banda E stasera tornati dalla gita Ci aspettano almeno un'ora e mezzo di ensemble Cosa stai facendo? Mi piace perché sei diverso Eh? Mitico E vedi le montagne dietro? Guarda Cane Diri cane Mi figlio lui si chiama Matteo come te Due Matteo Ciao 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 Guarda che c'è anche Pietro Lui è un Matteo Si suona le percussioni Lo sai Vai dimmi la tua frase magica Anche le ragazze fanno il cotone con l'ombelico Mamma mia Sebadillo Che benessere Grazie Diamo il benvenuto al presidente dell'Ambima Sondrio Renata Giumelli Sul vlog dell'Ambima 2017 E adesso la presentiamo ai ragazzi Ma scusa presenta anche la mia amica Chi è lei? Lei è il presidente della banda di Grosio E il presidente della banda di Grosio Valtellina? Si Valtellina E dopo una giornata di turismo Di lavoro e di organizzazione Gita e Pian delle Betulle Mi hanno affidato ensemble di sax Voglio morire sotterrato In un mare di pizza Sagra dello scroppo Va va sono bravissimi Gita e Pian delle Betulle E' guerra Aiuto Siamo pronti Scusate Ha scroccato La cosa più emozionante di questa giornata Nei miei luoghi di infanzia E' stato La condivisione di un ricordo I ragazzi venivano Entravano in casa E mi dicevano Oh ma che bella questa casa E la tua casa E io No guarda la casa di mia mamma Casa mia è un pochettino Un pochettino diversa E E mi chiedevano Ah ma guarda Questo è tuo fratello Questa è tua sorella Ma qui giocavate Ma chi ha fatto queste foto Si facevano bellamente gli affari miei Ma il loro farsi gli affari miei Mi ha fatto ricordare Tutte le cose belle che sono successe lì dentro E alle cose belle che sono successe nel passato Se ne è appena aggiunto un'altra Che è quella della splendida giornata Che abbiamo vissuto Al piano delle betulle Allora Mi hanno richiesto di fare dei saluti sul vlog Ciao mamma Ciao Cioè veramente avete detto ciao mamma? Sì Va bene Ciao Ciao Come si chiamano le vostre mamme? Marino Francesca Ciao Marina e Francesca Ciao Deci Dal GFB App di Casargo C'è tenerezza Annika fai la faccia delusa Quindi l'aria Allora Ciao Ciao Grazie a tutti